Bentornato Cutler, bentornata! Continuiamo nella spiegazione di Windows 8.1 Update nel menu del pulsante Start e ora descriviamo la sezione connessioni di rete. È la sezione dove vengono archiviate tutte le connessioni di rete possibili per la configurazione attuale del tuo computer. Significa che può variare in base alla tipologia, alla configurazione e all'installazione delle schede installate sul tuo PC. Con essa puoi visionare le informazioni che permettono al computer di connettersi ad internet oppure connettersi ad altre reti di computer. Qui una rappresentazione screenshot con una possibile visualizzazione. Quando installi una scheda di rete nel PC, il sistema operativo automaticamente crea la connessione relativa e la inserirà in questa cartella. Se è presente una scheda Ethernet, verrà creata una connessione alla rete locale LAN, Local Area Network. Se invece colleghi una scheda o interfaccia senza fili, otterrai una connessione alla rete wireless. Tutto qua non devi fare altro perché di norma verranno installati automaticamente i driver della scheda ma in caso contrario dovresti possedere un disco che accompagna la scheda o altrimenti scaricarli dal sito del produttore della scheda stessa. Per completezza, in caso di utilizzo di una scheda wireless, dovrai impostare una password per proteggere la tua connessione e non lasciarla aperta a tutti, quindi anche agli estrani, per dare una cifratura di sicurezza. Come accedi? Naturalmente la cosa semplice è cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante Start ed individuare la scritta Connessione di rete. Nella finestra che si aprirà troverai la lista delle possibili connessioni che in questo momento il tuo computer può sfruttare, in base quindi alle schede installate sul PC, sulla scheda madre. Interagendo con la singola connessione puoi ottenere informazioni o impostare alcuni parametri. Cliccando con il pulsante destro del mouse, sulla connessione nascerà una lista di opzioni possibili. Disabilità, connetti o disconnetti, stato, imposta come connessione predefinita, esegui diagnosi, connessioni con bridging, crea collegamento, elimina, rinomina o proprietà. C'è da dire che la lista può variare in base alla tipologia di scheda che viene installata. Il primo pulsante va a disabilitare la connessione e quindi non potrai più connetterti alla rete fin quando non la riabiliti tramite questa opzione appunto. Il secondo, qui non presente, ti permette di connetterti o disconnetterti alla rete se già fosse in collegamento naturalmente. In caso di richiesta di password per l'accesso dovrai digitarla per poterti collegare. Vedi esempio di scheda wireless. Tramite il pulsante stato puoi visionare la situazione della rete e dei suoi parametri. Qui è rappresentata una immagine con vari parametri che ti possono tornare utili per individuarla. Potrai trovare infatti il tipo di connettività, i dettagli, il numero di pacchetti dati scambiati, le proprietà della connessione, password e tipo di sicurezza e criptografia se stiamo parlando di wireless. Oppure eseguire una diagnosi in caso di problemi, ottenere indirizzi di rete, impostare DNS e molto altro ancora. Il pulsante imposta come connessione predefinita comparirà se hai diverse connessioni funzionanti e potrai scegliere così quale considerare come predefinita per l'accesso alla rete. Esegui diagnosi invece ti consente di eseguire una ricerca di eventuali problemi in maniera automatizzata e guidata in caso di mancanza di connessione. Potrebbe essere utile come punto di partenza per risolvere i tuoi problemi. Il pulsante invece connessioni con bridging ti permette di collegare delle reti non connesse tra di loro per poter comunicare. Esempio una rete di computer che non ha accesso ad internet ti permette di collegare tramite il bridging ad un altro computer che fornendo la connessione a internet permette di diffondere tutta questa connessione alla rete di computer. In questo caso specifico però la rete del computer deve avere un accesso protetto con delle credenziali altrimenti qualsiasi utente da internet potenzialmente può accedere alla rete che può essere privata o casalinga in maniera libera. Ancora tramite le opzioni puoi creare un collegamento sul desktop alla connessione tramite il pulsante omonimo che ti permette di abilitare o disabilitare la scheda. Con il pulsante in imina se attivo puoi naturalmente eliminare la connessione invece con il pulsante rinomina puoi dare un nome specifico ad una scheda di rete in modo da poterla riconoscere con facilità. In ultimo con il pulsante proprietà potrai visionare tutte le proprietà della rete che in parte avrai letto qualche riga fa in particolare il tipo di protocollo, gli indirizzi IP di connessione automatici oppure impostati manualmente, i DNS e molto altro ancora. Qui rappresentato una serie di screenshot di vari passaggi per ottenere queste informazioni. Bene Guter, eccoci qua in zona pratica. Andiamo con il pulsante destro del mouse sul pulsante start individua connessione di rete, cliccaci sopra e si aprirà una lista in visualizzazione delle schede di rete attualmente installate su questo PC. Subito una possibile variazione sui modi di visualizzazione puoi scegliere la metodologia di visualizzazione di questa sezione con icone molto grandi, icone medie piccole, un semplice elenco oppure quella che io personalmente prediligo è in dettagli ma puoi scegliere tu in base alle tue necessità il modo di visualizzare questa sezione. Nel momento in cui hai la lista delle schede, in questo caso una sarà collegata ad internet la prima da questa lista e la seconda ha un cavo di rete scollegato. Cliccando con l'una o l'altra può nascere un menu leggermente diverso sia se essa è una scheda di rete con cavo oppure una scheda wireless. Giusto per farti vedere immediatamente la possibilità di disabilitare la scheda attualmente in basso a destra vedi ho una connessione con accesso ad internet disabilitando questa scheda oltre a notificare in questa sezione di stato la modalità disabilitata non avrò più in basso a destra come puoi vedere nessuna connessione finché non abiliti di nuovo la connessione. Questo può essere utile in alcuni casi in cui ti necessita la possibilità di sganciarti da internet senza spegnere il router o togliere il cavo ethernet dalla scheda stessa. Altre opzioni sono lo stato che ti dà informazioni sull'accesso eventualmente alla rete il numero di pacchetti inviati o ricevuti puoi anche qui disabilitare o eseguire una diagnosi che potrai anche fare con il tasto relativo come in questo caso esegui diagnosi partirà un rilevamento dei problemi e nel caso in cui venga rilevata ti fornisce un'indicazione su come risolvere ma andiamo avanti con la sezione stato dalla sezione proprietà si evidenziano altre opzioni quella che può essere utile andare a individuare dal protocollo a cui ti connetti le proprietà che ti permettono di selezionare la possibilità di ottenere automaticamente un indirizzo P o dei DNS oppure impostare dei parametri relativi alla tua rete nel caso in cui tu volessi creare una rete di computer privata o aziendale qui potrai impostare i parametri relativi ed eventualmente DNS ma di norma per un utente casalingo l'opzione normale è questa con la possibilità di avere il DHCP abilitato ossia la possibilità di avere assegnati indirizzi P automaticamente torniamo alla sezione precedente queste sono le parti che più sono utili al nostro livello altre opzioni la connessione con bridging in questo caso non è molto utile in ambito casalingo ma viene utilizzata per connettere due reti che non dialogano tra loro come l'esempio di una rete di computer aziendale a cui deve essere fornito un accesso ad internet il pulsante crea collegamento ti permette di creare un collegamento sul desktop che potrai utilizzare per poter accedere a questa rete il pulsante elimina in questo caso non è abilitato ma qualora fosse abilitato ti permette di eliminare la scheda di rete il pulsante rinomina ti permette di cambiare il nome della rete come ad esempio connessione internet a tuo piacere il pulsante proprietà ti dà indicazioni delle proprietà che già in parte abbiamo visto precedentemente quindi poche nozioni importanti che ti permettono di gestire al meglio la tua connessione, la tua scheda di rete per andare a individuare alcune caratteristiche che possono essere utili per risolvere alcuni problemi e per ottenere informazioni preziose un'ultima possibilità in basso a destra nella zona dove c'è l'icona del computer cliccando col pulsante destro puoi accedere al centro connessioni di rete e condivisione e da questa schermata puoi lo stesso accedere alle proprietà delle connessioni di rete oppure configurare una nuova connessione anche se di norma non hai la necessità di eseguire una nuova connessione per accedere ad internet visto che verosimilmente già hai una connessione ad internet o wireless o via cavo però qualora tu volessi decidere di accedere o a un punto di accesso o configurare una nuova connessione a banda larga o remota non ti resta che eseguire questa procedura guidata impostando i parametri relativi alla tua connessione bene, nella prossima lezione ancora informazioni su questa sezione del menu che si apre dal pulsante start ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto